oh ma la planetaria si monta al contrario tesoro ecco bravo così oh quante cose che ci sono su questo tavolo è vero che va lì? però mi sa che va al contrario bravo così vai perfetto è proprio così oh mamma ecco ci sono ecco ci sono ecco ci sono ecco ci sono non riesci a montarlo? prova a montarlo papà? si allora proviamo un po' dai dove sta Hoppiti? non so Hoppiti mi sa che sta qui girato sul tavolo l'avevamo lasciato qui ciao Hoppiti ciao che fai? stai sul contenitore delle uova? ciao ciao buon pranzo buon pranzo